Cresciuta in una famiglia di artisti, il padre e il celebre paroliere Pino Tombolato, ha fatto parte del gruppo storico di ragazzi che animavano la trasmissione radiofonica Bandiera, Gialla, curata da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, che a partire dal 1965 trasmetteva il sabato pomeriggio musica italiana e straniera destinata ad un pubblico giovanile. E' stata anche interprete di sigla e di cartoni animati, come Carletto e i Mostri e Ultralion. Come attrice, ha avuto una piccola parte nel film Musicarello Venga a fare il soldato da noi, del 1971.